ragazzi buongiorno a tutti buongiorno a tutti allora prima di cominciare questo video vi invito a iscrivervi al canale di jalux 3.0 e gabrielino tutte e due i link dei canali sotto in descrizione allora io veramente non so più come dirlo che il problema di questa squadra la difesa dopo la partita di cesena cesena foggia il 3 a 3 avevamo a casa già i tre punti stavamo 3 a 1 è arrivato il 3 a 3 in un niente in un niente con due episodi il cesena ha cambiato la partita non ha fatto niente tutta la partita il cesena è arrivato gli ultimi minuti due episodi si cambia la partita questo è il calcio il calcio è ad episodi accattasse per favore di centro l'abbuno cioè per favore due difensori buoni perché veramente non si può andare avanti così vabbè quelli che hanno giocato i medi hanno stato vacca coletti mazzio e beretta quindi non è che ha fatto questo chissà che so eh non è che ha fatto questo granchè chi dico ha fatto quasi niente la difesa guarda proprio inguardabile inguardabile perché è veramente un portiere che non si butta neanche cioè guarda il pallone che aveva in porta la difesa il secondo gol mi ricordo se era il secondo e il terzo gol che abbiamo subito quel gol là 3-2 fa un 0 sopra uno tutto un mezzo non si è visto di lui c'è ma il partito non ha visto niente ma almeno una parte che è del millionaire ma che veramente e poi non c'erano un cavo e non c'erano più una mattina va la parte dove c'è è stata inguardabile inguardabile accattato a sredito di Fonzio che non si può vedere non si può non si può accettare una cosa del genere ma che veramente da 3-1 3-3 l'ultima in classifica l'ultima in classifica l'ultima in classifica l'ultima in classifica ripetate voi ma che te l'ultima in classifica 3-3 ma vabbè fangolo va va sti stupido che è posto i tifosi che ho dovuto fare vanno pure di fannare ma come cazzo se vuoi voi dovete andare contro la squadra adesso tutti i miei preti io non me ne frega di inserire che la difesa si scrive la difesa del foggia sono il tifoso del foggia la difesa del foggia fa cacare o di combaccio fa schifo e questa è la verità non lo dico solo io dicono pure quelli che fanno i video sul foggia come a me utilizzano tutto quanto però stanno stupido che la difesa è buona perché stanno stupido ma come si fuori come si fuori i murti amico con i morti l'ultima in classifica la fangolo va tre punti in tasca abbiamo già tre punti abbiamo già tre punti 3 a 1 e non niente 3 a 3 con due errori dalla difesa quello che non devo portare quello che non devo portare a fangolo va fangolo va fangolo e mo ma c'è questo stroppa che cazzo di colpa da qui che tenete che i cubanesi giugatori ma veramente io dico a certe persone riprendetevi la difesa ma stroppa ma che ne pensate se viene esonerato vattene via merda va arrabbiata stroppa e chi mito di a chi è metto qui la team e dice già su e dice già grazie in acquista da punto di inserire a b e dice già grazie ma io te vedo ma io comincio a uscire dall'età dalle fogne stroppa varne stroppa coppò vengono da partire torna a bacio no è lì veramente a cattastro di difendere un boom perché con la difesa non si può vedere veramente la giusta sono poca la difesa non dico che la colpa non dico che la colpa è di stroppa perché la stroppa io l'ho sempre difesa lo difenderò a morte perché secondo me è un'allenatura con i fiocchi non se ne trovano e non lo penso solo io quindi però aggiustassimo poca la difesa cioè aggiustassimo poca la difesa vedesse che andrà a fare vedesse che si andrà a vendare che si andrà a 10 ma aggiustassero la difesa io penso che stroppa l'ha capito che andrà a gestire quella cazzo di difesa ma io non lo so veramente io certe volte rimango all'ibito sono senza parole cioè un video senza non so che cazzo devo dire hanno fatto schifo secondo di agli ultimi 15 20 minuti hanno fatto schifo abbiamo fatto schifo dopo i grandi il gran gol di mazzio di ricordi barretta sono tre bei gol amma di tre bei gol soprattutto quello di coletti mamma voglio parlare veramente ma come cazzo si fa ma madonna 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 mi non ci credo è la difesa guardate la difesa guardatevi i replay su youtube guardatevi quello che cazzo volete i replicas guardate la difesa tre sopra uno quello che si è scoperto quello che mi ha dato la palla e poi poi ti fai un gol ma la voglio mancare veramente aggiustassero la difesa per favore aggiustassero la difesa vedessero che ha da fare vedessero che si andrà vedessero che si andrà vedessero che si andrà a marua seconda ter lottiamo per la salvezza questa è la verità questa è tutta cosa iscrivetevi al canale che vi ho detto iscrivetevi al mio canale ci vedremo domani per fuggia parlo e speriamo domani che portiamo i tre punti alla cosa speriamo perché secondo me domani è nato pareggi saluto a tutti